I femminicidi non diminuiscono come non diminuiscono i casi di violenza di genere. Lo testimoniano i recenti fatti che hanno portato alla ribalta delle cronache nazionali Palermo per lo stupro di gruppo avvenuto il 7 luglio scorso e per il caso di violenza sessuale di gruppo in famiglia avvenuto a Monreale su due sorelle minorenni. Sarebbe necessario combattere il patriarcato e investire sulla formazione all'interno delle scuole affinché la donna possa avere un ruolo diverso all'interno della nostra società. E questo ciò su cui si focalizza Antonio Ferrante, presidente direzione regionale PD Sicilia. Quello che va chiarito è che non parliamo di un problema sociale, economico, è un fattore culturale che colpisce tutte le classi. Ricordiamoci che quest'estate una ragazza usata come piatto in un hotel a quattro stelle in Sardegna allora come fenomeno culturale va affrontato. Non certamente con la repressione, non minacciando cose tipo la castrazione chimica che servono soltanto a parlare alle nostre pance ma occorre innanzitutto un controllo del territorio, questo è ovvio, ma per davvero perché a Caivano ieri sera hanno ricominciato a sparare ma anche l'educazione, il sostegno alle famiglie in quei quartieri disagiati e poi nelle scuole, l'educazione sessuale, l'educazione al rispetto di genere, l'educazione sentimentale. Se il governo vuole fare veramente qualcosa per superare questo gap che ormai si porta avanti da secoli potremmo dire, questa piaga del patriarcato si deve partire dalla cultura, dall'educazione e dal sostegno sociale. La repressione, soprattutto in certe zone, lascia il tempo che trova. Noi affronteremo chiaramente la questione della nostra festa regionale dell'Unità che si svolgerà a fine settembre. Come abbiamo partecipato a tutti i presidi che si sono organizzati da parte della società civile è chiaro che noi stiamo spingendo per norme più restrittive a tutela delle vittime ma soprattutto perché, come ho detto prima, le scuole siano un luogo non soltanto di formazione culturale ma anche e soprattutto umana per quei ragazzi e per quelle ragazze soprattutto che purtroppo fuori dalla scuola trovano ambienti familiari difficili.